Ieri sera in Serie C il puntato è stato 3-0 per la squadra avversaria. Devo dire che i P2-7 abbiamo giocato anche abbastanza bene. Come di nostro consueto non riusciamo mai a venire fuori con facilità nei momenti difficili e commettiamo sempre troppi errori. Il terzo setto ha cambiato un po' di giocatrici, fa giocare anche un po' di era fuori e questo ci ha ulteriormente penalizzato. La cosa che incomincia a preoccuparmi è il fatto che non riusciamo a fare nostro questo campionato. Lo subiamo e lo viviamo solo ed esclusivamente come campionato esperienza e quindi dimostriamo poca cattiveria in campo. Ma quello che mi è veramente dispiaciuto è che comunque a fine partita, dopo aver perso 3-0, non vedo nessuno che è arrabbiato, nessuno che se la prende. Sembra quasi normale e scontato. Su questa cosa dobbiamo assolutamente lavorare. Non è una responsabilità delle ragazze ma dello staff tecnico che naturalmente non riusciamo a trasferire l'importanza di questo campionato. Poi nei campionati giovanili si sta procedendo secondo quelle che sono le programmazioni, i gruppi stanno crescendo, le ragazze stanno migliorando, c'è qualche risultato che magari fa fatica a venire, però siamo in fase di evoluzione. Bene, speriamo che riusciamo in settimana a portare dentro alcuni concetti durante gli allenamenti e vediamo se sabato prossimo riusciamo a far meglio. Grazie.